Ok Ludovico, adesso esci perché devo fare i miei bisogni. Perfetto, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Apri, per favore, apri. Perché se non sei insieme? Oh. Ludovica, a che ora arriviamo? Io sto letteralmente staccando, te l'ho detto. Ludovica, la teno, ok. Ludovica, capisci che noi dobbiamo andare a Roma perché alle 16.30 abbiamo l'evento? Ludovica, il treno si è bloccato, siamo fermi non so dove. Arriveremo tra un'ora. Che ore sono? Beh, lei torna. Ludovica, talmente che mi sto aggitando e mi sta rendendo un leggero mal di pancia, te lo sto dicendo. No, se l'è il treno. No, ricalzati. Sì, no, devo. No, Ludovica, veramente, io quando ho l'ansia mi viene molto mal di pancia. E adesso ne ho tanto, non, Ludovica, no, devo andare in bagno. Anch'io. Buongiorno, comunque. Andiamo insieme in bagno? Cosa, Leo? Qua. Non è nel trasportino. E il punto è dove è il bagno? Non so, io. Ludovica, allora, capiamo un attimo la situazione. Il treno non parte. Siamo bloccate nel... Non so dove. Non so nemmeno che ore sono perché ho il telefono scarico. E poi, che cosa? Dobbiamo andare alle 6.30. Abbiamo l'evento con gli unicornini. Adesso facciamo tardi. Andiamo in bagno un attimo. Vai, vai, vai. Vai. Sì, stiamo alla stazione. Vedi qua. Ah, San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni. Buongiorno, signori. Come? Schiaccio questo. Scusate. 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 Non si apre il pano, mi suggeriscono la cadera e la dos. Come, come sei? Beh. Ah, ah. Ah, ragione. Che bui. Ok, allora. No, Ludo. Ludo. No, Ludo, non ci ritiamo. Io, io ti giuro, non ce la faccio più. Dove andare io. Basta, è troppo piccolo. Anche io vado. No, no, no. Vado prima. È troppo piccolo. Vado prima. Vado prima. Scusate. È troppo piccolo il bagno. Non ci stiamo. Non ci stiamo. Scusate. Ludo, non ci stiamo. Va bene. Ok. Ludo, dica. Ok. Ma, che... Ma, sì, salute. Ok, Ludo, dica. Come si chiude la chiave? No, perché dobbiamo un attimo chiudere. Ma, ma, eh, ok, ok, ok. Ok, ok, chiude. Ok. Ok, aspetta. Bisogna mettere... Ah, no, un secondo. Io devo andare in bagno. Se vuoi, devi aspettare, perché io mi sto facendo il cagotto addosso. Ok? Perfetto. Io adesso devo andare in bagno. Mi raccomando, con cautela, ti lasciate la videocamera e... Ok. Ma non puoi riprendermi, ti faccio. Ok, io adesso devo andare in bagno e dammi la... No, 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 no. Ok, Ludo. Voi lavati le mani, perché io adesso ho un leggero mal di pancia. Ecco. E Ludo, dica, ti vuoi muovere? Chiedi di uscire dal bagno, perché io devo fare... Ecco. Dopo che sei lavato le mani, esci, perché devo fare i miei bisogni. Grazie. Ok. Perfetto. Prendi qua la carta. Aspetta che te la prendo io. Oh, che schifo. Ok, aspetta. Dove sei, Ludo? Allora, un secondino. Ecco qua. Ok, perfetto. Ok, Ludo, adesso esci, perché devo fare i miei bisogni. Perfetto. Vai. 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 Ma, Ludo, dica, togliti un attimo. Se qua è sbloccato, vedi che è sbloccato. Apri, per favore. Apri. Guarda. In che senso non si apre? Ludo, dica, mantieni la videocamera. Ludo, dica, mantieni la videocamera. Allora, ma che succede? In che senso? Ludo, dica, mantieni la... Che succede? Mamma, 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 aiuto. Oh, mio Dio. Oh. Allora, dici. Ludovica, non c'è qualche via d'uscita? Ma, sei sbloccato. Ludovica, siamo, siamo da sola in mezzo. Allora, ma sei sbloccato. Appunto, hai sbloccato, perché? Non c'è un'altra barba lunga. Ma che è, Ludovica? Ludo, vedi che siamo... Ma siamo nel treno. No, no, Ludovica, no. Ludo, mi stanno andando più ansia di prima, te lo giuro. No, Ludovica, oddio. Aiuto! Guarda. Guarda. No, no, Ludo. No, Ludo, no. Ludo, no, devi mantenere un attimo questa videocamera. Scusami, allora, se qua... Se la metto così... Ok, non sapere, ma se la metto così... E' sbloccato, si deve aprire. Non sapere lo stesso. Che è un po' di... Ludovica. Ludovica, pensiamo e non andiamo in panico. Ludovica, pensiamo... Non c'è... Non c'è... Poi, forse c'è un'altra porta. Non c'è un po' di... Ludovica, ti puoi metterla, per favore? Che cosa facciamo? Ah, il telefono! Il telefono! Sì, riprendi, riprendi. Ok, ok. Ho il telefono. Qual è il telefono? Il telefono è il tavolino sul treno. Ho il telefono. Sì, ho il telefono. Ho il telefono. Ho il telefono. Ho il telefono. Non ho il telefono. Anche perché è scarico. Ludovica, cosa facciamo? Io esco. Mamma, mamma! No, no, Ludovica. Non mi vieni a piangere. Ludovica. Non c'è nessuna mia riuscita. Mamma, vediamo cosa si tira. Ludovica, non c'è nulla. Vediamo cosa si tira. Ma cosa vuoi che ti si tiri? Lutovica, capisci che... Qua non si apre. Ok, mettilo sul verde. Si apre lo stesso. Luto, basta fare così. Devi stare ferma. Se continua ad andare... Eh, lascia che è bloccato di suo. Ma vedi che qua, poi, quando fai così... Appunto, perché è sbloccato. Infatti, un po' qua si apre, ma non si apre. Cioè, non tutto. Luto, mi si tira, per favore. Che cosa possiamo fare in questi casi? Allora, possiamo fare... Chiamiamo la polizia. Chiamiamo... Luto, ma che è la polizia? Allora, possiamo chiamare mamma? Chiamiamo più forti che possiamo... No, Ludo, no. No, perché... No. Non possiamo urlare all'interno del treno. Ascoltami, Ludovica, ascoltami, guardami. In questi casi, che cosa si fa? Non solo ti chiedi... Allora, lo sai che si fa in questi casi? Cosa? Lo sai? Se tu rimani qua, nel bagno, prima di andare in bagno, devi prendere il telefono. Ludovica, fermati, fermati. Allora, perché sta frenando? Luto, si muove troppo. Luto, che cosa facciamo con questo? Aiuto! Procura, non ci puoi! Spiega, cosa è questo rumore? L'uso vita? L'uso vita? Sento mamma! Anche la sentita? Mamma! 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 Mamma, ti prego, apri! Mamma, ti prego, apri! Mamma, mamma, ti prego! Non si apre la porta! Mamma, si è bloccato! Si è bloccata la porta, mamma, fai qualcosa! Non lo so, mamma, ma perché? E' sto sbloccato! Ma non si apre! Mamma, non ha in che senso, mamma, muoviti, ti prego! Non capisco, qua c'è scritto sbloccato! E qua? È bloccato! È bloccato! Si è bloccato! Si è bloccato! Toiless, autobusia! Cosa? Toiless, fuori servizio! Toiless, autobusia! Cosa ha detto? Però... Papà! Papà! Papà, apri, ti prego! Papi! Papi, non si apre! Aspetta! Toiless, fuori servizio! Toiless, autobusia! Fuori servizio Ma come hai fatto ad entrare che è fuori servizio il bagno Ma non l'hai visto Ma non avete visto che è tutto bloccato Che è fuori servizio Perché siete entrate Madonna mi aspetta Faccio io Ma passa forzando aspetta Forse sì Ma non sia Così è bloccato Ma non sia per lo stesso Aspetta No no mamma ti prego muoviti Mamma ti prego Dai dai Un attimo un attimo un attimo Adesso provo a chiamare qualcuno Fuori servizio Ma com'è possibile Noi dobbiamo andare a fare l'evento Come facciamo Se state incastrate qua dentro Come facciamo Dovete andare all'evento ragazze No oddio No 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 Aspetta Forse sì forse sì Muoviti 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 Ma io mi facciamo Ma non mi ha pensato È inutile Ma Ma usa qualche schedina Qualcosa Non lo so Ma non mi ha pensato Continuo a dire questa frase Perché Perché continuo a dire questa frase Papi Sforza dai Aspetta allora Guarda che adesso Con tutte le mie forze Cerco di aprirlo Uno Due Tre Un attimo Un attimo Aspetta Ludovica 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 Ladella non funzionale Io non mi ha pensato Ladella non funzionale Pappa Pappa Ma pappi Ludovica 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 Io sono frunicola ostrofobia Io sono frunicola ostrofobia Non posso essere Ladella non mi ha pensato Sforza Non riesco Papi Ti prego Ludovica Che cosa facciamo Ludovica Allora Uno Due Tre Dai 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 Papi Ti prego Oddio Uno Due Tre Ludo Ludo Che cosa avete fatto Ma cosa avete fatto Oddio Ma che è successo Ludovica Oh mamma Ludovica Ludo cosa avete fatto Mamma 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 Io sono frunicola ostrofobia Stare là Non so quanto tempo Mi sono Ludo Ma ti sei spaventata Mamma Vi spieghiamo la situazione Ludovica se le lavate le mani Ho detto Ludovica Adesso esci Vai da mamma Perché io devo fare i miei bisogni Ma non avete visto Che era fuori servizio Quel bagno Ma io non lo so Mamma Praticamente Sai quando ho scritto Sbloccato Il verde è bloccato Il rosso E quella roba C'era la precetta Su sbloccato Ma non si apriva Abbiamo provato a mettere Su bloccato E il bloccato Per un attimo Ma come hai fatto Ad entrare Che papà Spiacciava il tasso Lì Che diceva Che era fuori servizio Come hai fatto Ad entrare Ludo Ma che sei spaventata Ma noi Non abbiamo Scacciato Quello Quindi abbiamo Abbiamo aperti Che adesso ci fermiamo Anche a Roma Ragazzi Noi dobbiamo andare All'evento Non combinate pasticci Per favore Mi raccomando Adesso andiamoci a sedere Non vi muovete Più da vicino a noi Ci siamo capiti Mamma Mamma Vedete pure di cadere Mi raccomando Dai mi lasciamoci La risata Dai mamma Andiamoci a mettere Seduti Già siamo stati bloccati Un'ora con il treno Fermi Mi volevi chiamare prima Tra un po' Inizia il nostro evento Vi volete muovere Dai Non mi ficcate nei guai Per favore Vai Sì 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 Grazie a tutti.